Cosa premia questo riconoscimento? Cosa ci ha voluto per arrivarci? Impegno e professionalità da parte di Luigi Isola Bella, del suo studio, del nostro studio, lo studio di Isola Bella, che da tanti anni fa gli interessi dei propri assistiti, difendendoli nelle sedi processuali e non solo, perché i loro diritti abbiano affermazione. Quanto è importante riceverlo davanti ai propri competitor, davanti ai clienti, peraltro dato da una commissione tecnica, quindi quanto è importante avere questo riconoscimento in questa sede? Senza dubbio è importante, tutti noi che siamo qua in questa sede però siamo consapevoli che la nostra azione non è rivolta ai nostri competitor, ma agli interessi dei nostri assistiti. Certamente. Come sta andando la serata? Con chi siete al tavolo? Siamo al tavolo con uno studio che si occupa di proprietà intellettuali sulle nuove tecnologie e è molto bello confrontare le competenze diverse. Una bella occasione di scambio. Senza dubbio.